Aspetta, questo è meglio come... Vai, vai, come ti pare? Vai, vai. Siamo partiti? Sì, sì. Ciao, carissimi amici nostri. Benvenuti all'hostel, all'ACCO Hostel. Questi sono i nostri amici che abbiamo conosciuto qui. Diciamo i primi, sì. Non ci capiamo italiano. Parlate, per favore, inglese. No, piano, piano. Quello inglese è che io ho delle serie di fidontà. Ciao, comunque, quella che esce, esce. L'inglese è abbastanza zoppicante. Questi sono gli amici più, diciamo, più intimi e più divertenti che si prese da questo gioco. E cosa è questo? Ma non è conto? Cosa è questo? Un quiz show. Questo è un quiz show. È un botone. Anche un microfono. Siamo contenti di aver... Si è presentata già da sé. She is... Devere. La Turcia più bella. La Turcia più bella. Te amo. Dalia, io vi salvo a te. Vi salvo a te. Sì. parlate di qualcosa, non lo so che preferisci? parlate di questi 3 italiani parlate di arte parlate di arte e questo è il nostro gani bandit parlate di una scuola in India o in Pakistan molto bene ora sono il boss di questo programma o cosa? ora sei il boss presentate presentate in italiano o in inglese facciamo cinese direttamente chi non ha studiato cinese? tra Roma no no scusate però si presenta in cinese poi mettiamo i sottotitoli in libico mettiamo i sottotitoli in libico e interviene il nostro amico in colombia dai aspetta 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 interviene da solo credo prego 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 abbiamo perso un'occasione tu chi sei? sei preparato? sono prontissimo sono prontissimo per parlare si ma senti bene? ho vinto qualche cosa? non c'è 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 scusarti allora non c'è 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 cosa stai dicendo? non c'è perché lui è andato da Italia da Sicilia da Stavri allora qual è? allora ah stai parlando con me? esce l'aspetto critico è così vogliamo aggressiva io preferisco di presentarmi in mia lingua quindi un po' di un po' di pacienza un po' di pacienza mia nama Vakas è ma 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 non c'è la prima intervista sul ok ma 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 svedevino no no ma ma masha Allah ma o Ma stai recitando una preghiera? Che cazzo fa? Ehi, presentatori Venga, sei venuto qua? Ah, io sono venuto già Ma sei preparato? Ma ci senti? Cosa pensi di noi? Parla di noi Penso di venire ancora Anche se l'altra volta al locale siamo andati in bianco Ti guardi quelli che sono andati dai No, siamo contentissimi E Natascia Buongiorno Quindi, ora того, devo presentare ad un bimba che si chiama che fa molto simpatizia che passo subito perché lei sta dormendo la tua storia ormai la leggenda la leggenda l'aspetto di Michele Cucuzza Connoce Michele Cucuzza perché non ti prendi questo in inglese? perché il tuo inglese è buono sei una buona sei una buona sai questo è io un talone d'acchilo L'interno è il talone da Kim Show your toes, your mama, for you After, in the second moment In the end of the program You can show it here in the second... in the second... In the private video Giada Ecco, who is Jokono? I don't think we'll wear her back e quindi conosciamo benissimo la storia di Yoko che in una triste giornata per lei e per noi no, in realtà per noi molto felice ha sbagliato località non lo dico mai ma già l'abbiamo detto più volte cosa hai provato in quel momento quando ti sei accorta che hai sbagliato la città cosa si è scatenato nel tuo intimo e quali le reazioni in casa e soprattutto a chi hai chiesto che stai a Stoccolma? scusa? è la parola dell'individuo no, se parli in italiano parli in italiano no, è in francese quando ti sei accorta mi vuoi mettere in difficoltà pure tu? parliamo sempre in italiano in italiano ma le donne preferiscono le lingue inglese le donne preferiscono le lingue inglese inglese, francese, swedish quindi abbiamo sbagliato viaggio, località dobbiamo andare dall'altra parte no, no, no no, no, no 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 dico qualcosa ci chiedi sì milo no dico qualcosa non mi dico mai che volevo andare a spazio ma appena mi sono sbagliata qui ma mi sento molto sfortunata di conoscerli sono molto contenta sono molto contenta un abbraccio oh papà e figlia dopo i fatti di Roma un pizzico di serietà dopo gli avvenimenti di Roma a Torpignattara questa è stata penso almeno personalmente la sorpresa più piacevole un momento dimmi dimmi why are you italians talking so much? why italian talking so much parlo tanto no no e te cecina e non tanto no vabbè questo ragazzo qua no intervista al buio intervista al buio sì no intervista al buio no intervista al buio sono un'istar ma non metti di là e fai un'intervista metti di là e fai un'intervista parlare cosa pensi di niente dico? sì posso parlare niente ok sì parlare di persone mi chiamé ho chiamé sono 30 anni mi chiamé sono un singolo non mi chiamé aspetta aspetta questa la dobbiamo dire questa la dobbiamo dire lui è arrivato qua con uno zaino con una valigia grossa così lui c'ha solo questa giacca e la valigia piena di preservativi e non si cambia da 5 giorni non si cambia da 5 giorni sono questi vestiti e mi chiamé che devi fare vado 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 e siamo qui in un hostel con i miei amici vado 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 e credo che è stato un erro e ora amico aspetta adesso adesso facciamo un gioco vieni qua vieni qua piano piano mischiatevi mischiatevi tutti facciamo questo gioco no no meglio mischiati meglio mischiati meglio mischiati meglio mischiati meglio mischiati meglio mischiati abbiamo 3 minuti ah questo gioco questo gioco si chiama trova l'intruso prego prego Jack commenta tu parla anche tu no qua che dico che qua è difficile perchè è difficile sembrano tutti uguali cerca di confonderti cerca di confonderti secondo me secondo me ora facciamo le interviste sui sospetti che hanno loro stessi secondo te io prima di dire qualcosa secondo te chi è l'intruso chi è l'intruso chi è l'intruso tra voi chi è l'intruso come vuol dire io io pakistan dai 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 hai sbagliato hai sbagliato di nuovo hai sbagliato di nuovo hai sbagliato di nuovo hai sbagliato di nuovo oh no secondo te che è l'intruso? truso prima che non capisco che cosa significa truso chi è che non fa parte del gruppo che c'era prima che ora è un po' truso come si chiama? truso cos'è allora possiamo dirlo per i nostri amici si è ufficialmente scassata la micchia allora finiamo qua se si è scassata la micchia no vabbè non so tradurre l'intruso non mi viene la parola facciamo la scena via poi e poi faccio un altro video lei se ne va ti seguiamo eh stile grande fratello esce dalla casa esce dalla casa non mi hai dato la botta sulla spalla e stare già a videocamera esce dalla casa elimina